Bari centrico, facilmente raggiungibile e con un solo progetto adatto per tre aree distinte. È stato illustrato stamattina il rendering del Comitato per l'ospedale nella Valle dell'Arzilla e delle Terme. Uniti un mese fa con l'obiettivo di suggerire il miglior sito possibile per il nuovo nosocomio, studi alla mano il Presidente Barbieri e i suoi vice ci hanno mostrato i dettagli e le motivazioni. Al Comitato interessa che nella scelta del sito si tenga conto innanzitutto del principio di equità, di accesso per tutti i residenti della provincia, affinché ognuno possa arrivare in tempo alla struttura ospedaliera. Non ci sono cittadini di serie A o di serie B, hanno precisato, ed è ora di accantonare i campanilismi e gli interessi di parte, mettersi intorno a un tavolo e prendere una decisione in comune prima che il sito venga scelto dalla Regione, perché a quel punto le opzioni sarebbero Muraglia e Fosso Signore. Se sbagliamo la scelta ci siamo giocati il nuovo ospedale unico e per i prossimi cent'anni avremo o una cattedrale nel deserto oppure un'incompiuta. Quindi a nostro parere la soluzione migliore è quella di rispolverare un'ipotesi che era stata fatta anni addietro dal comune di Monbaroccio, che era stata avvallata da ben 21 sindaci, tra cui anche il sindaco di Fano, che prevedeva la collocazione dell'ospedale proprio nell'area di Carignano e dell'Arzilla, questo perché è ritenuta l'area più facilmente raggiungibile da Pesaro, da Fano e dall'entroterra ed è la zona più baricentrica. Nella stessa valle il comitato propone tre aree per realizzare il nuovo ospedale, distanti a poche centinaia di metri l'una dall'altra, ma ognuna in un comune diverso, Fano, Pesaro e Monbaroccio. Il progetto è stato pensato in un'area di 26 ettari, esente dal rischio idrogeologico, e la struttura, dotata di pannelli fotovoltaici e piattaforme di atterraggio per le le ambulanze, potrebbe avere un costo complessivo di 200 mila euro. La cifra aumenterebbe se si volessero realizzare più di 500 posti letto. La proposta inoltre permetterebbe di valorizzare anche le terme di Carignano e sfruttare le opere compensative alla terza corsia, alleggerendo il traffico sulla statale adriatica. Fondamentale, secondo loro, è realizzare il casello di fenile. Il nostro progetto comprende un polo ospedaliero fatto modulare, per cui replicabile, che può ottenere fino dai 600-800 posti letto. Naturalmente prevede tutto quello che è dentro l'ospedale, tutte le varie parti si è diviso nei vari piani, di cui il piano è interrato. Comprende anche tutta una struttura a servizio di quello che è l'ospedale, che può essere la ricezione sia per quanto riguarda i medici che per i parenti degli ammalati. Tutti i parcheggi, sia interrati che a livello, e comprende, nelle vicinanze comprende, tutta un'area che comprende anche un parco botanico, per cui ha servizio, tutta la zona che è già stata concessionata, perché è quella della Valla delle Terme, per cui diventerebbe tutta una vallata, che noi abbiamo riferito alla vallata della salute, perché potrebbe essere tutta una cosa unita, uniforme, che tutto potrebbe venire a tutto benessere per tutta quella che è la provincia di Piero Urbino, tutto quanto. A fare un appello ai sindaci, invece, è il presidente del comitato, Massimo Muratori. Questo è un discorso che va a lunga già da vent'anni, no? Ecco, è ora di deciderla, questa cosa. Quindi io ho fatto anche io sindaco, quindi mi metto anche nei panni loro. Certo che smaltellare in una città un ospedale, che fa parte della struttura della città stessa da 150 anni, non è semplice, no? Però oggi è arrivato il momento di fare delle scelte, di mettere da parte le varie banalità, anche di destra, di sinistra, e soprattutto, diciamo, i campanilismi. È ora di decidere, io credo che sia ora di fare la scelta giusta, e mettersi, diciamo, dalla parte dei cittadini. Grazie.